Il segno arancione sul dispositivo deve essere posizionato sul segno di partenza sopra C7. Il segno dentellato sull'alloggiamento bianco dovrebbe essere nell'estensione della linea arancione. Per avviare la registrazione è necessario premere il pulsante sinistro del panel mouse M360, attendere il tono del segnale BIP prima di iniziare nuovamente a muovere l'ispositivo lungo la colonna vertebrale. Dopo il tono del segnale, lo panel mouse viene guidato a una velocità lenta e costante lungo la sezione contrassegnata sulla pelle. Entrambe le ruote del dispositivo devono essere sempre a contatto con la pelle e il dispositivo deve essere guidato solo con una leggera pressione sulla pelle per non modificare la postura del paziente. Non appena il segno arancione del dispositivo raggiunge il segno sulla pelle su S3, interrompe lo spostamento del dispositivo e premere nuovamente il pulsante sinistro del dispositivo e attendere il segnale acustico BIP. Per passare da questa misurazione alla successiva postura premere il pulsante destro del dispositivo e attendere le istruzioni a video.